Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca e con il caso della persona che venne aggredita ad indicatore. Ci aggiorna Chiara Sadotti. Prima gli avevano teso un'imboscata tirandolo in località indicatore, poi lo avevano assordito con lo spray al peperoncino ed infine aggredito a calci e pugni. Uno scontro feroce nel quale aveva perso la vista da un occhio dovrà sottoporsi ad un intervento per rimuoverlo. Una vicenda che risale a più di un anno fa ma che emerge solamente adesso dopo che la vittima, 33enne marocchina, ha raccontato agli agenti della squadra mobile della questura di Arezzo l'accaduto. L'uomo, assistito dall'avvocato Tommaso Scarabicchi, infatti ha deciso di sporgere denuncia dopo le operazioni subite. Quattro in tutto per adesso, un quinto intervento invece servirà per rimuovere l'occhio. Probabilmente però avrà giustizia solamente a metà, infatti ha scoperto che uno degli aggressori nel frattempo è morto e quindi non sarà possibile attribuirgli alcuna responsabilità, mentre l'altro ad oltre un anno di distanza risulta irritracciabile. Non ha fissa dimore, lo sta cercando la squadra mobile. L'ipotesi dell'aggressione è quella di un regolamento di conti nel giro dello spaccio di droga ma tutto dovrà essere riscontrato da ulteriori accertamenti. In un casale di campagna avevano nascosto circa due chilogrammi di ascisce, per questo due italiani di 24 e 25 anni residenti nella Val di Chiana a Senese sono stati arrestati dalla polizia. L'indagine poi ha toccato anche il territorio di Arezzo e allora in collaborazione con i colleghi della squadra mobile della questura Aretina hanno rintracciato anche un altro spacciatore, un 24enne di Monte Pulciano. Proprio nella sua abitazione sono stati trovati 67 panetti di ascisce per un peso complessivo di 7 kg nascosti un po' in tutta l'abitazione e 5.000 euro in contanti. Anche il 24enne è stato arrestato. Oggi Arezzo ha ricordato Maurizio Dettore, scomparso prematuramente nella sua Locri. Sentiamo. Molti di noi, la comunità provinciale che gli è sempre stata vicino, visto anche le circostanze della morte, il contesto, non ha potuto rendergli omaggio, esprimere il cordoglio e in molti sentivamo il bisogno di organizzare questa giornata a un mese dalla scomparsa. Onorevole professore d'avvocato, oggi Arezzo ha ricordato Felice Maurizio Dettore ad un mese dalla sua improvvisa morte lo scorso 22 agosto, un'iniziativa all'interno della Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia. E poi naturalmente oggi si ricorda la figura di garante per quanto riguarda i detenuti, lui ha sempre avuto un'attenzione particolare per quel mondo, per lui l'elemento delle regole, dunque dell'ordinamento, in qualche modo era un elemento essenziale. A render omaggio a Dettore anche alte cariche nazionali e locali, tra cui il sottosegretario alla giustizia, Andrea Del Mastro. È certamente un atto dovuto essere qui per ricordare il garante dei detenuti, per me è un imperativo morale categorico essere a ricordare quello che era diventato più di un amico, ma direi un fratello. L'eredità di Maurizio Dettore è enorme e inestinguibile, non c'è possibilità di sintesi. Presente anche l'ex premier Giuseppe Conte con cui Dettore ha condiviso il percorso accademico. Qualcuno forse oggi è sorpreso di questa mia presenza, il mio attributo all'amicizia e alla persona. Io e Maurizio Dettore dirimpettai a Firenze, due colleghi che si incontrano. qualche tempo dopo, tutti e due assolutamente sorpresi, in Parlamento. E allora voi capite che l'amicizia va al di là delle ragioni politiche, al di là dei confronti, anche delle rispettive convinzioni. quando, ricordo a memoria, nel settembre dell'anno scorso è stato proposto come garante nazionale per i detenuti. E io mi sono fatto carico, nella mia comunità politica, di rappresentare che quel ruolo così delicato sarebbe stato nelle mani di una persona seria. una persona di un altro partito, ovviamente, che era il governo, ma una persona che conoscendola l'avrebbe svolta con serietà, con onore, con disciplina. È stato poi l'onorevole Giovanni Donzelli a tracciare il profilo politico ed umano. Un serissimo guascone, riusciva a far ridere anche dicendo in allegria, affrontando però temi serissimi in modo molto determinato, capace, moderato come posizionamento, ma molto molto determinato nel portare avanti le proprie idee, i propri valori, legatissimo a questo nostro territorio che l'aveva accolto in questi anni. Non è facile, non è facile, continua a mancarci tutti i giorni. La provincia di Arezzo, infine, idealmente collegata anche alla sua Locri, dove è prematuramente scomparso. Parliamo adesso invece di treni, cancellazioni, ritardi e disagi. Il faccia a faccia tra i sindaci dell'area retina e fiorentina, la regione toscana e Trenitalia è stato fissato per il prossimo 9 di ottobre, un incontro davvero molto atteso per affrontare tutte le criticità che ogni giorno migliaia di pendolari devono affrontare, una situazione che è diventata ormai insostenibile perché appunto annovera quotidianamente cancellazioni, ritardi e mancanza di comunicazione. Ci sarà anche una nutrita delegazione a retina alla manifestazione di Firenze in occasione dello sciopero nazionale che riguarda tutti i lavoratori della sanità privata del prossimo lunedì 23 settembre. Chi garantisce la salute dei cittadini merita rispetto con questo slogan, i lavoratori e le lavoratrici scenderanno in piazza per chiedere l'apertura dei tavoli per il rinnovo del contratto nazionale fermo al triennio 16-18. Parlando ancora di sanità, oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer, una malattia che colpisce sempre più persone e c'è un appello che la regione invia al governo, forte e chiaro. L'Alzheimer è una grave malattia che colpisce circa 40 milioni di persone al mondo. In Toscana sono oltre 80 mila le persone affette da demenza, tra cui 1.500 ad esordio precoce. Per affrontare una patologia come l'Alzheimer, hanno detto gli assessori regionali al diritto alla salute, Bezzini, alle politiche sociali, Spinelli, è necessario avere a disposizione una rete di servizi e di funzioni sociali e sanitari appositi. Le attività finanziate con il Fondo Nazionale a partire dal 2020 si sono concluse lo scorso maggio. Nonostante la legge di bilancio 2024 preveda uno stanziamento di circa 35 milioni per il triennio 2024-2026, non è ancora stato approvato il decreto attuativo. Le regioni non hanno quindi ancora ricevuto le risorse previste. Chiediamo con forza al governo che l'aggiornamento del Piano Nazionale Demenze, su cui l'Istituto Superiore di Sanità, con il contributo di tutti, sta lavorando, sia per la prima volta accompagnato ad un adeguato finanziamento inserito strutturalmente all'interno della legge di bilancio. Partirà il 1 di ottobre la campagna di vaccinazione anti-influenzale contro il Covid-19 e anche quest'anno le due saranno appunto condotte congiuntamente proprio nelle residenze sanitarie per anziani, negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nei centri delle asle e nelle farmacie convenzionate. La vaccinazione sarà offerta gratuitamente prima agli ospiti appunto delle RSA, alle persone che hanno più di 60 anni e ai soggetti più fragili poi dal 7 ottobre sarà disponibile per tutta la popolazione. Un intero mese dedicato alla prevenzione cardiologica. L'iniziativa è promossa dalle farmacie comunali di Arezzo e terminerà, inizia proprio oggi, e terminerà lunedì 21 ottobre. Il mese del benessere cardiologico, questo è il titolo di un'iniziativa che abbraccia idealmente i temi della giornata mondiale del cuore del prossimo 29 settembre. Il personale delle otto farmacie comunali di città e frazioni sarà dunque a disposizione dei cittadini. Convegni, mostre, sport, arte, cultura e musica. Una settimana di eventi che inizia proprio oggi dedicati alla tematica dell'edilizia popolare e della casa in generale. L'occasione sono i 20 anni dell'attività di Arezzo Casa che appunto per festeggiare questo traguardo ha inaugurato il festival AC20, il futuro dell'abitare. Sarà il momento per fare tante riflessioni, una su tutte però insomma servono i finanziamenti, altrimenti Arezzo Casa ha difficoltà comunque a fare manutenzione ma poi soprattutto questo tema dell'emergenza a casa non si risolve. Sì, questo è un momento storico mai visto prima. Noi ci troviamo per la prima volta senza nessun finanziamento né regionale né statale con i comuni che hanno tutti quanti problemi di bilancio e che quindi possono corrispondere in maniera minima e sicuramente non sufficiente per far fronte alle esigenze che abbiamo. Di fatto noi oggi viviamo solo con i nostri canoni e questo è impensabile, è impossibile. C'è bisogno di modificare lo strumento ERP, c'è bisogno di costruire dei finanziamenti strutturati e soprattutto c'è bisogno di fare una progettazione. serve un piano casa, dopo 61 anni dalla fine del piano casa Fanfani servirebbe immediatamente non solo nella nostra realtà ma in quella nazionale un nuovo piano casa e servirebbero delle nuove leggi, dei nuovi provvedimenti che ci dessero la possibilità di fare il nostro lavoro al meglio. Ecco in un quadro sicuramente non positivo a livello nazionale ma anche europeo, Arezzo, la realtà di Arezzo Casa com'è messa? Sì, la realtà di Arezzo Casa in effetti non è messa poi così male, io personalmente ho fatto un tavolo politico pochi giorni fa proprio nella città di Torino dove eravamo insomma svariate città italiane di varie dimensioni quindi dalle metropoli ma anche le città di medio abitazioni e da lì proprio con i dati alla mano è emerso che la città di Arezzo poi alla fine si sta difendendo alla grande perché comunque non ci sono liste di attesa spropositate, non ci sono case non abitate e soprattutto non ci sono occupazioni quindi di per sé c'è una lista di attesa che scorre e quindi questo rende la città di Arezzo virtuosa nel suo lavoro. Si guarda però anche all'Europa, ad esempio alla Francia? Sì, si guarda assolutamente all'Europa proprio perché adesso è nata proprio questa nuova figura a livello europeo che si occuperà delle politiche abitative e questo sta a indicare che finalmente si è posta l'attenzione su quelli che sono i veri problemi delle abitazioni ERP, in primo fra tutti la manutenzione, ne abbiamo una coscienza anche qui ad Arezzo, lo sappiamo ma è un problema che a questo punto deve per forza interessare la parte non solo nazionale ma anche europea e quindi sperare anche in fondi che possono aiutare sia le amministrazioni che le società che si occupano di alloggi ERP a sostenersi e andare avanti nel lavoro. Tra poco inizia la raccolta delle olive ma c'è un allarme che arriva in particolar modo dai gestori dei frantoi. Ormai non ci sono più persone che appunto lavorano le olive soprattutto nei campi ma ci dicono abbiamo anche difficoltà a reperire la manodopera all'interno dei frantoi e dunque l'olio extravergine di oliva rischia di scomparire. Ho in continuazione telefonati di persone che dicono ma c'è nessuno che mi cura l'olivi ma c'è nessuno che mi cogli l'olivi. È dallo storico frantoio aretino Caccioli che arriva un vero e proprio allarme. Non ci sono più le persone che curano le oliveta e il nostro oro verde rischia di non essere più prodotto. Ormai la raccolta delle olive è alle porte e la difficoltà è anche nel reperimento della manodopera all'interno dei frantoi. Per cogliere le olive 70-80 euro al quintale ormai è diventata quella ma se poi qualcuno mi dice no guarda non me ne dare più perché qui è un problema. Tutti vogliono cogliere le olive, vogliono che cogliere le olive però io non ce la faccio e di conseguenza io ho qualche riferimento per Rigutino, qualche ragazzo, amici tanti perché sono della zona però è un problema per il mio settore ma qui non è un problema del mio è un problema proprio della zona. Però io ho ragazzi che vengono da 15 anni da me, si prenotano un anno per l'altro perché li paghiamo abbastanza bene, dico loro, li trattiamo come fossero i nostri figli. Ma se io ho bisogno di un ragazzo, l'ultimo l'ho preso tre giorni fa, pensare che fra i 15 ci sono inizio è stato un grande fiato tutta l'estate cercare qualcuno che venga al frantò e lavorare. I ragazzi, boh, ci sono, non c'è più nessuno. Si rischia di perdere anche un'eccellenza toscana perché se non si produce più l'olio? In effetti è questo il nostro problema, noi iniziamo molto presto per avere l'eccellenza perché i primi di ottobre, credo il 2 o il 3, faremo le prime olive. Però l'eccellenza rimane poca perché non arriva abbastanza olive per poter andare avanti e credo che quest'anno l'olive, anche se è una grande produzione secondo me quest'anno, l'olive rimarranno sull'olive perché c'è gente che proprio non riesce manco a, non sa dove battere il capo. Mi sono fermato qui un attimo davanti alla pasticceria, subito uno mi ha detto, mi trovi qualcuno per cogliere l'olive? O che ti trovo? Ci manda un mio figliolo che sta negli Stati Uniti, dici chi mi trovo? E' così. Siamo alla cultura, alcuni pezzi dei murales del Moneyless che fino ad un mese faceva sfoggio di sé in Piazza del Popolo e poi come sappiamo è stato demolito per i lavori in corso della ex caserma Cadorna, è diventata una installazione per volontà del critico d'arte Danilo Sensi. La mia intenzione, dice, è sempre stata quella di trovare una soluzione per salvare quell'opera che fu realizzata nell'ambito di Icastica. Avevo detto, ricorda ancora Danilo Sensi al sindaco Ghinelli, anche di non cancellare proprio la manifestazione, ma purtroppo non è andata così. E adesso invece parliamo delle celebrazioni vasariane. Vasariane in città è arrivata l'opera su tela più importante di Giorgio Vasari. Il servizio. E' certamente un'opera fondamentale per questo museo, per le dimensioni banalmente, ma anche per la storia che c'è dietro, per il fatto che il Vasari la descrive nei suoi scritti e poi per la bellezza, per questa sua ricchezza di composizione che evoca i banchetti del tempo. Chiaramente il tema è biblico, il convito di essere al suo ero, ma noi vediamo davanti a noi svolgersi un convito, un banchetto dell'epoca del Vasari. Eccezionale per dimensioni, per quantità di figure e per l'elevata qualità artistica. Il convito per le nozze di essere al suo ero può essere considerata la più importante opera su tavola del Vasari, anche perché è ritenuta completamente autografa e adesso è arrivata in città. Il Museo Nazionale d'Arte Medivale e Moderna ospita infatti fino al 2 febbraio 2025 la mostra Alcuna cosa fuor dall'uso comune. La mostra presenterà dei disegni preparatori per la tavola, preparatori e anche delle citazioni da altri disegni sempre di Vasari. Poi ci saranno dei manufatti che sono stati proprio rintracciati nei depositi per dare delle suggestioni della tavola e poi dei documenti che contestualizzano ancora meglio l'opera all'interno della carriera dell'artista. Consiglio a tutti a venirla a vedere questa tela perché è gigantesca. Noi abbiamo operato per migliorare l'illuminazione e quindi ora la si può godere in tutta la sua straordinaria bellezza. L'evento si inserisce nell'ambito di Arezzo, la città del Vasari, il sistema di esposizioni, eventi e celebrazioni che vuole rendere omaggio al maestro Aretino nei 450 anni dalla morte. Siamo arrivati ad un'ulteriore tappa, la prossima sarà l'archivio di Stato e quindi tutte le istituzioni cittadine hanno partecipato a questa celebrazione vasariana con i loro capolavori perché così si devono definire e in preparazione della mostra che si inaugurerà il 30 ottobre alla Galleria d'Arte Moderna. Gino Severini, una vita nel segno di Cortona, Roma e Parigi. È questo il titolo del progetto del Comune di Cortona, risultato vincitore del bando PAC 2024 del Ministero della Cultura. 80 mila euro per valorizzare vita e opere di Gino Severini, una delle 40 iniziative appunto finanziate a livello nazionale proprio per la valorizzazione delle opere d'arte e della creatività contemporanea destinate al patrimonio pubblico italiano. Ed infine siamo allo sport, domani allo stadio Città di Arezzo, le Amaranto dell'Arezzo calcio femminile scenderanno in campo per la terza giornata di Serie B dove affronteranno il Lumezzane. L'Arezzo arriva a questo impegno con tanta grinta e determinazione, le Amaranto sono tra le prime in classifica a punteggio pieno. Il Lumezzane si è fermato al turno preliminare dopo aver perso il derby contro l'Orobica. Ed infine un servizio dedicato invece al passaggio del Gran Premio Nuvolari ad Arezzo. Vetture dal fascino senza tempo tra i suggestivi paesaggi della nostra Italia per celebrare il leggendario Tazio Nuvolari. Passaggio anche ad Arezzo del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d'Italia. 300 i Gentleman Drivers impegnati nel percorso, pronti a consolidare i risultati ottenuti. Questa edizione vede confermata la presenza di alcuni importanti partner, grazie ai quali il Nuvolari ribadisce alcune delle proprie caratteristiche fondamentali, lo spirito della competizione sportiva, la celebrazione storica e il turismo itinerante. In Piazza Grande anche i controlli a timbro nel centro storico, poi tutti verso le prove di Pieve Santo Stefano e il passo di Via Maggio. L'arrivo della seconda tappa sarà a Rimini in Piazza Tre Martiri. La giornata si chiuderà con il tradizionale gala dinner in onore di Tazio Nuvolari e nella meravigliosa cornice felliniana del Grand Hotel di Rimini. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per l'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!